Un patrimonio di qualità, bontà e sicurezza che viene raccontato con due fuoriclasse della storia del gusto premiati dall'Europa con il marchio DOP. Storici formaggi degli appennini delle Marche e dell'Emilia Romagna, la casciotta d'Urbino e il formaggio di fossa di Sogliano si uniscono per la prima volta per una importante operazione di tutela e di valorizzazione agroalimentare. La campagna, denominata doppiamente eccellente, dimostra che si possono creare sinergie nella promozione dei due formaggi a denominazione di origine protetta. Questa è una campagna che promuove Tre Valli Società Cooperativa, che è la capofila del filiera lattiero casearia, ed ha l'obiettivo di dimostrare che esistono sinergie tra questi due prodotti, casciotta d'Urbino e formaggio di fossa di Sogliano. Sono due prodotti complementari, perché uno è la casciotta d'Urbino, ha una stagionatura di 15-20 giorni, quindi è morbida, ha un sapore ancora di latte, di burro e di yogurt e invece il formaggio di fossa ha 150 giorni di stagionatura, quindi ha un sapore molto più articolato. L'obiettivo è quello di far apprezzare al consumatore la qualità certificata e la territorialità di due DOP, simbolo della gastronomia che hanno in comune artigianalità e antiche tradizioni, naturalità e biodiversità di cibi sani e genuini. La campagna, doppiamente a cura dell'Agenzia Omnia Comunicazione di Fano, prevede una pianificazione a livello regionale. La casciotta d'Urbino ha il consorzio di tutela ormai da 30 anni, quindi funziona e tutela il prodotto anche sul livello commerciale. Il formaggio di fossa ancora non ha un consorzio di tutela, quindi noi vogliamo dimostrare che si può stare insieme e poter promuovere questi consorzio di tutela per il formaggio di fossa.